Nel corso della serata, in via Rosso di San Secondo, una volante in transito notava la presenza di un immigrato il quale, alla vista degli agenti, aumentava l'andatura, cercando di dileguarsi per eludere il controllo. I poliziotti, raggiunto l'uomo, identificato in un cittadino di nazionalità nigeriana di 28 anni, domiciliato a Caltanissetta, lo sottoponevano a perquisizione personale. Trovato un coltello delle dimensioni di 33 centimetri. Condotto in questura, il protagonista della vicenda veniva denunciato in stato di libertà alla locale procura della Repubblica presso il Tribunale per porto di coltello di genere vietato.